Prosegue l'opera di valorizzazione dei beni pubblici da parte del comune di Montesano sulla Marcellana che dopo l'avviso per il recupero del complesso immobiliare Scialandro ha pubblicato un altro avviso per l'affidamento dei locali di Palazzo Gerbasio per la valorizzazione delle tipicità locali. L'avviso spiegano dal comune è un procedimento preselettivo non vincolante per l'amministrazione comunale finalizzato solo alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'individuazione di un imprenditore artigiano a cui verrà affidata l'organizzazione e la gestione delle cantine all'interno di Palazzo Gerbasio. Il termine ultimo per presentare le manifestazioni di interesse è fissato al prossimo 16 settembre. Le antiche produzioni, ha affermato il sindaco Rinaldi, le nostre tipicità, la nostra storia potranno trovare sede grazie all'apertura progettualità private e produttive locali del settore che possano valorizzare e promuovere il nostro territorio in un immobile storico di grande valore. La gestione dei locali è infatti finalizzata alla valorizzazione dell'Atlante e del paniere delle tipicità, come progettato da luglio 2018 nel contest di Mirabilie. Un Atlante e un paniere delle tipicità, ha spiegato il primo cittadino, che racchiudano una vera e propria mappa delle nostre produzioni con le loro precise caratteristiche e anche dei relativi produttori raggiungibili attraverso un semplice click. Dopo il rallentamento forzato dovuto al covid, continuiamo a lavorare alle iniziative di valorizzazione del nostro vasto e importante patrimonio comunale nell'ottica dell'apertura verso i giovani imprenditori e le attività tipiche. Il sindaco ha infine annunciato che nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso anche per l'utilizzo della cucina ristorativa di Palazzo Gerbasio e delle sale di degustazione, sempre nell'intento di valorizzare le tipicità locali.